Allora, quale migliore occasione? Rivedo per la prima volta Renato Buso, vecchio amico di tanti anni fa. Finalmente ci voleva, perché si era incanalata Maluccio. 5-0 al Torino, ricordo all'andata vincevamo 3-1, perdiamo 5-3, vinciamo 5-0. Manita tra Fiorentina e Torino siamo noi da averla meglio per differenza di T. Bravo Renato! Sì, più che altro ci voleva, perché questi ragazzi da quando sono arrivato hanno lavorato tanto, hanno lavorato con tantissime difficoltà. Ma a parte la partita con la Roma, sia contro l'Atalanta e contro Sassuolo abbiamo fatto delle grandi prestazioni, ma non sono venuti i risultati. Ricordiamo che con l'Atalanta pagareggiavamo in 10 e soprattutto ha fatto un gol in cramoroso fuori gioco. A Sassuolo abbiamo sbagliato un rigore, avevamo avuto l'occasione di pareggiarsi e non di vincerla, ma non sono venuti. Però gli ho detto ai ragazzi che eravamo migliorati sotto il punto di vista del gioco, di squadra e che sarebbero venuti i risultati se continuavamo a lavorare in questo modo e oggi ne è stata la dimostrazione. Ecco, che sia un periodo nuovo, tu devi andare a fare il viareggio e io sono una vecchia volpe del viareggio, questo per me è il 34esimo torneo di viareggio della mia vita, vi seguirò. Per cui che si inizia adesso a girare pagina? In Ferentina, dai tempi di Vincenzo che è andato da un'altra parte, mi diceva guardate, seguiamo questa squadra, vogliamo lì bene, stiamo lì accanto perché è un campionato promozionale, il primo anno che si fa, per cui è tutto in prospettiva futura. Non chiediamo niente, la classifica non ce ne importa nulla, però un conto è continuare a perdere e un conto finalmente a girare pagina. Ma non è la classifica che perde le tutte, che dà fastidio ed è anche deprimente nei partiti dei ragazzi, però quando sono arrivato mi è stato chiesto di creare un gruppo, creare una squadra e quello sto cercando di fare in tutti i modi, perché penso che si parta da questo presupposto, da dei concetti, dalle basi, quelle che è anche la mia esperienza e quindi di costruire un gruppo per cercare poi di portare questo gruppo a migliorare in campionato, ma non solo, per andare al viareggio, che sia una squadra, magari anche con degli innesti, ma però se non c'è questa base non puoi andare al viareggio e mettere dentro i giocatori e poi dopo far bene, vuol dire che prima si lavora con quelli che si hanno, poi dopo se c'è qualcuno che può darci una mano, ben venga, ma bisogna costruire un gruppo con quelli che si ha e questo gruppo sta lavorando tanto e oggi è venuta la soddisfazione, che poi diventava anche difficile poi con i ragazzi parlarci, ma sono stato onesto e convinto, gli ho detto tutto quello che pensavo e sapevo che se continuavamo a giocare come abbiamo fatto appunto con l'Atalanta e Sassuolo venivano poi i risultati come oggi. Senti, avete fatto questa innovazione tecnica e messo dentro l'ascensore, due volte spedaliere e salito in cielo, cosa che questo movimento così produttore non si era mai visto, è un nuovo schema che è andato a segno. Ma diciamo che abbiamo provato tanto le palline attive questa settimana, anche le marcature differenti a zona perché abbiamo preso tre gol sia con l'Atalanta, con il Sassuolo e anche contro la Roma su calcio d'angolo, quindi sia in fase difensiva abbiamo lavorato su marcatura a zona, soprattutto perché abbiamo dei centrali abbastanza fisici e di grande fisicità e l'abbiamo sfruttata anche davanti cercando di attaccare con i primi pali, visto che avendo questa fisicità non dobbiamo cercarla, ma dobbiamo anticiparla perché siamo sinceramente prestanti sotto questo punto di vista e quindi abbiamo lavorato su questi piccoli aspetti. Segna anche Furina, siamo tutti contenti? Sì, siamo tutti contenti, ci voleva, è arrivato, darci una mano, è ancora un po' indietro di condizione ma deve lavorare tanto, è un ragazzo che comunque si è messo a disposizione con grande grande umiltà e questo mi fa piacere perché voglio giocatori solo umili che cercano di venire e cercare di imparare per poi migliorare, per avere un futuro. Senti, chiudo con il giusto elogio anche al giovane Carcani, tuo pupillo dai tempi del Gavorrano, perché io ti ho seguito anche quando tu allenavi il Gavorrano, ti ricordavi di aver visto questo portierino, appena sei venuto a Firenze, hai telefonato, Garcani a Firenze ha fatto una grandissima parata su Caucuc, ha negato il gol della bandiera al Torino. Sì, abbiamo avuto anche un infortunio con Luci che è sempre un nostro portiere, si è fatto male alla spalla e quindi avevamo necessità di mettere dentro un portiere, si conosceva un ragazzo che ha fatto molto bene, era prima alla Cattolica e quindi si conosceva, sapevo che Para non ha tanta fisicità, ma in queste categorie servono che Para non, lui è bravo con i piedi, è bravo in porta e quindi c'è un futuro, mi manca un po' di fisicità ma ci lavoreremo e sarà sicuramente una pedina importante perché avevamo bisogno anche di aumentare la qualità in generale di tutta la squadra. Allora io ti ringrazio, ti abbraccio se mi permetti, mi ha fatto piacere di vederti, aver dato con il commento in diretto, ho chiesto alla Fiorentina se per significare me la fanno dare intera in modo che martedì alla fine di giovani pianticelli viola crescono ci facciamo questo regalo, altrimenti sintesi e intervista a seguire, aspetto direttive dall'alto. Grazie, buone tante cose a Renatino Buso, allora vecchio amico ci si può anche permettere un abbraccio tra me e lui, allora dallo Stadio Bozzi è tutto, quindicesimo turno campionato Under 18, la Fiorentina sotterra il Torino, vendica il 3-5 dell'andata, vincevamo 3-1 a Torino, vinciamo con Amanita a 0, 5-0, passi lunghi e ben distesi, Fiorentina che artiglia i primi tre punti interi del campionato, saliamo a 5, prima vittoria della stagione, prima vittoria per Renato Buso che sia una domenica ben augurante, sia per il settore giovenile viola, tendiamo buone notizie da Spezia, sia per l'Under 18 che deve andare a difendere i colori sociali viola, il blasone viola al prossimo torneo di Viareggio tra Stefano Ballerini, per adesso è tutto, linea alla regia.